Far capire che lo Stato c'è. Il Ministro dell'Interno insiste sull'obiettivo che si è posto il Governo Meloni in tema di sicurezza. A Milano, alla Scuola Politica della Lega, affronta il tema partendo dai luoghi affollati. Gli ospedali con il ripristino annuncia dei posti di polizia e pronto soccorso. Quindi le stazioni a cominciare dalla centrale di Milano. Rivendica primi risultati, ammette i problemi ci sono. Così come ora in Napoli, le grandi città coinvolte nel forum delle aree metropolitane. Penedì avrò un incontro con le tre città principali, le autorità di pubblica sicurezza e anche i sindaci per ricavare delle aree di controllo anche nelle più estese aree che includono le grandi stazioni. Quindi ricavare quasi come se fosse una città nella città e assoggettarla ad una pianificazione del controllo del territorio.